Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video e bentornati sempre qui su Marco Verdoliva Tutorial. Non sono morto, non sono andato in missione su Marte, ma semplicemente un po' di influenza e un po' di raffreddore hanno tardato l'uscita di questo video che comunque fa parte di una serie di video dedicati ad alcune schede video molto interessanti di cui parleremo. Prima di iniziare vi ricordo andate giù in descrizione, seguite i link che ci sono per il mio canale Telegram e per i miei vari social e soprattutto lasciate un like e scrivetemi un commento se questo video vi può interessare e vi può piacere. Allora, in generale sul mio canale e nella vita di tutti i giorni ho sempre avuto un metodo, diciamo, di approccio quantomeno scientifico e soprattutto le mie considerazioni si basano su un principio fondamentale, ovvero che ogni decisione, determinate azioni che uno compie nella vita e decisioni che prende, corrispondono poi a determinate conseguenze e quindi a una determinata reazione. Questo è quello che un po' governa anche il mondo dell'hardware e dell'informatica. A questo concetto di base si associa ovviamente in tecnologia il concetto anche dei money, cioè dei soldi. Quindi se voi spendete un tot di soldi avrete determinate performance, avrete determinate caratteristiche da poter sfruttare in gaming e in altri ambiti. Se voi ne spendete un'altra di cifra ne avete determinate. Ok? È molto semplice come ragionamento. Questo pettine che io ho in mano, questa scheda video, è completamente l'opposto, ok, di questa teoria. Cioè questa scheda confuta tutto. Perché è una scheda che dal punto di vista economico costa, perché costa, e dal punto di vista delle caratteristiche fa veramente schifo. Parliamoci chiaramente. E l'avete già visto. Se non la riconoscete e non l'avete riconosciuta fino ad adesso, ve lo dico io che cos'è? Ovviamente è una GT 1030 di gigabyte, modello low profile, silent, quindi è fanless, senza nessuna ventola, con questo bellissimo dissipatore che non ha senso. Già non ha senso la scheda in sì. Perché sì, è una low profile, ma guardate quanta è doppia. Cioè questa scheda nei mini ITX non ci sta. Ci ho provato a farcelo andare, non ci sta. Però lasciamo perdere, perché voglio parlare un po' in generale del male che affligge questa scheda, ovvero il fatto che ci sono persone che la difendono e la consigliano sulla fascia delle schede dei 70-80 euro. Tanto costa questa scheda, se prendete la ITX aereo di MSA arriva pure a 90 euro. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una scheda che è uscita, diciamo, di recente nel 2017 ed ha un'architettura Pascal, quindi ha un chip che è Pascal a 14 nanometri ed ha solamente 384 CUDA Core. Quindi non è una scheda con un'architettura vecchia come possono essere la serie 7, ok? O come possono essere altre schede meno recenti. Ma è una scheda che, diciamo, conserva quantomeno una tecnologia che dovrebbe essere decisamente buona, perché come tutte le schede Pascal, la maggior parte erano buone. differisce molto da quelle che sono le sue schede, diciamo, di fascia inferiore, come la 710 e la 730. Anche se con la 730 condivide bene o male il numero di CUDA, condivide la quantità di RAM, che sono 2 giga, e con la 710 invece non ci siamo proprio in altro pianeta, perché la 710, pensate, che ha solo 192 CUDA Core. In ogni caso, quello di cui stiamo parlando è di una tecnologia abbastanza, ok, recente rispetto alle altre, dalla quale ci si aspetta un minimo di performance, anche dato il prezzo, che è di circa 80 euro. L'ho testata su un po' di benchmark, che comunque sfruttano una serie di funzioni e di librerie, come le DirectX 9, le 11. L'ho testata, ad esempio, in Passmark, e devo dire che abbiamo ottenuto un punteggio veramente, veramente bassino, portandoci nella prima ventina per cento di percentile su scala mondiale. Quindi, su tutti i benchmark, anche in GFX Bench e su Geek Bench, ho ottenuto dei risultati palesemente bassi e quasi sempre inferiori, per farvi capire, ad una RX 550, o comunque nell'ordine, ok, delle Vega 11 integrate ad alcuni processori Ryzen. Quindi, per farvi capire che siamo molto bassi come performance. E questo già vi fa storcere il naso, perché stiamo parlando di una scheda che costa 80 euro. Molti, quando vedono questa scheda, la prima cosa che dicono è sì, ma non è una scheda per il gaming. E infatti, in gaming, non ci siamo proprio, perché sulla maggior parte dei test che vedete scorrere adesso a video, sui giochi, ovviamente, quelli più pesanti, nonostante noi andiamo ad abbassare i dettagli al minimo, in Full HD difficilmente riusciamo a superare i 30 fps su Odyssey o su giochi come Shadow of Tomb Raider, ovviamente in 1080p. Ve l'ho già detta sta cosa, non possiamo più parlare o consigliare nel 2019 schede, soprattutto quando costano quasi 80-90 euro, e parlare di 720p o di 900p. Anche su Battlefield, su World Reilly Championship, sta scheda è veramente qualcosa di obbrobbioso, perché, vi ripeto, nonostante i suoi 2 giga di RAM, che sono pochi per carità, ma non ci siamo proprio in performance, perché otteniamo veramente degli fps molto, molto bassi. Ovviamente, quando si tratta di giochini un po' più così, più leggeri, ad esempio Fortnite, gira abbastanza bene, ovviamente, con tutti i dettagli al minimo, perché se no, no. Giochi più vecchi come GTA, riuscite tranquillamente ad arrivare a 60 fps, anche, per esempio, su Apex Legend, riuscite ad avere una giocabilità minima, ma questo non è tanto motivo di vanto per questa scheda, ma più che altro sono giochi che è risaputo essere, diciamo, meno esigenti dal punto di vista delle performance. non è una scheda video da gaming, questa è la giustificazione che tutti quelli che la comprano, la maggior parte delle persone, la comprano danno, perché pensano che sia una scheda più dedicata al multimedia. In realtà, l'unica cosa positiva che questa scheda video ha rispetto alla serie 7 è che ha, diciamo, l'accelerazione in decoding, quindi, diciamo, vi dà una mano, ok, quando voi vedete, ad esempio, film in streaming o comunque tutta una serie di video in determinati formati, quali possono essere l'H.265 e, ad esempio, i file MKV, Matrioska, che sono abbastanza pesanti da decodificare. Attenzione, ho detto decodifica, non coding, quindi, praticamente, non potete sfruttare l'accelerazione hardware di questa scheda per tutti quei software che, invece, fanno encoding video, quindi, ad esempio, Photoshop, ad esempio, Premiere, o anche software come, ad esempio, Handbrake, che vi permettono di trasformare i file video da un formato all'altro questa scheda, non vi dà una mano. Io l'ho testata guardando di video anche in 4K e devo dire che tutto è molto fluido e tutto va perfettamente. L'unica cosa è che non è una, diciamo, cosa che vi può giustificare un prezzo di 80€, perché vi ricordo che sul mercato anche dell'usato, con 80€ quasi quasi ci comprate una RX 560 o anche una RX 570 se siete fortunati. Potete andare su schede video della passata generazione con 60-70€ riuscite a beccarvi una 950 da 2GB. Sì, è vero, sono schede che hanno un TDP leggermente superiore e a volte necessitano un po' di avere qualche alimentatore, no? È lo stesso discorso che abbiamo fatto con la 750 Ti. ma sicuramente sul mercato troverete di meglio rispetto che una scheda che voi praticamente non potete utilizzare per giocare quasi a niente, ok? E che costa anche tanto. Cioè, costa proprio assai sto pettine. Questo è un pettine. Eccolo qua. Beh, questo è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi prossimamente parleremo dei nuovi driver che sono usciti, gli Adrenalin 2020 di AMD e li testeremo su un RX 580. Quindi vi parleremo di schede video anche nel prossimo, diciamo, appuntamento. Quindi, vi ringrazio. Che cosa dirvi? Buon Natale! Spero di registrare un video e di darvi gli auguri prima di Natale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.